Osvaldo Menna è un politico conosciuto qui a San Salva, ricoperto per vari anni la carica di assessore, è stato consigliere provinciale per una legislatura e poi il 14 luglio dell'anno scorso è stato defenestrato insieme a altri due suoi colleghi dalla giunta comunale e da allora ad oggi diciamo che è stato in stand by. Per la verità non è una novità, diciamo che difficilmente mi passa la voglia di fare politica, ma non mi passa anche perché la nostra città, San Salvo, dal mio punto di vista ha proprio bisogno, bisogno di una nuova linfa assolutamente. E la nuova linfa può arrivare soltanto da un ragionamento centrale, centrale nella politica. Di centro? Sì, penso proprio in questa maniera e potrebbe essere la soluzione spero anche definitiva ai problemi, ai diverbi che oggi ci sono nel centro-sinistra principalmente, ma so anche che anche nel centro-destra esistono questi dialoghi forti tra le persone, tra i personalismi. Del Prete mi ha coinvolto intorno a questa nuova avventura. Allora la nuova avventura è che Del Prete, che è il responsabile provinciale di Alleanza per l'Italia, il movimento di Rutelli, ti ha coinvolto nominandoti responsabile? Tenta di fare questo, io ci sto ancora riflettendo, ma credo sia un'ottima idea, a prescindere dalla mia persona sinceramente. Voglio dire, posso essere la persona adatta, ma ci sono tante altre persone che possono entrare in questo progetto. Questo deve essere un progetto politico. Se c'è un progetto politico, allora metto a disposizione la mia forza, la mia voglia, la mia passione, non ci sono problemi in questo senso. Stiamo lavorando, il 18 arriverà Francesco Rutelli, porteremo anche queste persone di San Salvo a questo incontro, faremo un ragionamento anche lì. Credo, voglio dire, non ho chiuso la porta né a Del Prete né a questo progetto. Ho aperto un'ampia finestra, dobbiamo verificare anche le cose in questa città. Sono profondamente convinto che è l'unica strada possibile ed ecco perché probabilmente si propende verso questa nuova avventura invece che no. Questo sicuramente è. Come è noto il movimento di Rutelli, un movimento, potremmo dire, autonomista, cioè distante, distinto sia dalla destra che dalla sinistra? Mi affascina proprio questo perché fondamentalmente da dopo la prima Repubblica questi ultimi 17 anni sono stati un disastro per l'Italia intera. Ne sono profondamente convinto di questo e lo dicevo anche all'interno del mio partito, dei socialisti, voglio dire, però non ne veniva fuori questa storia, non ne veniva fuori perché probabilmente incancreniti intorno anche ad altre situazioni. Però credo che appunto perché l'Italia è stata devastata in questi ultimi 17 anni e ovviamente, come si sa, è dal centro-sinistra e dal centro-destra, credo che la forza, una forza centrale, un'idea centrale, un grande progetto che parta dalla base, voglio dire, che vada all'alto. Perché mi affascina la proposta del prete e quello che ne consegue? Perché fondamentalmente io ritengo di essere, io non sono un politico navigato, l'hai detto poco fa tu, io ho fatto sette anni l'amministratore, voglio dire. Ho fatto sempre colui che attaccava i manifesti per vent'anni e per trent'anni. Parte dalla base è questo ragionamento. Io se trovo consenso intorno a questo ragionamento, allora la cosa si apre in maniera, secondo me, molto molto forte e molto molto convinta.